Buonasera a voi tutti che seguite il canale. Non mi interessa quanti, non mi interessa chi, mi interessa il mio canale. Oggi parleremo di gnomi, di fate, di folletti, in una parola, di piccolo popolo, facendoci delle domande. Esistono, non esistono? La risposta definitiva, penso che non ce l'avremo mai. Però sicuramente di questo fenomeno esistono delle fotografie, delle tracce, che fanno pensare alcune. Veramente che questo fenomeno potrebbe essere autentico. Alcuni li chiamano creature preternaturali, ossia che non vivono sul piano della natura, ma in una sorta di ibridazione tra la natura e l'altra dimensione. Infatti si dice che questi esseri per lo più siano invisibili. Altri invece dicono che sono ben mimetizzati nella natura, perché hanno un mimetismo perfetto del loro corpo che ricaricherebbe i colori della natura, perciò è difficile trovarli per questi motivi, perché si confondono nella vegetazione boschiva. E' chiaro, queste creature abbinano il bosco, ma non tutti i boschi, ma dei boschi ben precisi. Sono quei boschi noti per la loro presenza, e li troviamo un po' su tutto il globo terrestre. Non solo in Normandia, ma anche nel nostro paese, sono annoverate leggende e storie di folletti, di gnomi e di fate in quello che è l'Appennino Emilio Toscano. Ma non mancano nemmeno al sud, dato che nella Magna Grecia, quindi nel meridione, in che vuol dire la Sicilia, la Calabria, e quei posti lì, insomma, è pieno, anche questi posti, sono pieni anche questi di leggende riguardanti fate, folletti, gnomi. E quindi, quali fotografie abbiamo che possono provare, o che dicono di provare l'esistenza di queste creature misteriose? Ovviamente dalle sembianze umanoidi, ma molto più piccole di noi. Quindi una sorta di antitesi rispetto ai giganti. Beh, troviamo l'episodio delle fotografie delle nipotine di Conan Doyle, come vediamo in questa fotografia. E queste qui, mi pare che lei si chiama Els, Elsa qualcosa del genere. Queste qui sembrano proprio fatine fatte con la carta. Perché, praticamente, ingrandendole, si vede chiaramente la loro bidimensionalità. Ovviamente ho anche una foto meglio definita, che più tardi vi mostrerò. E questa ve la sto mostrando soltanto per esemplificazione. Andiamo avanti. Qui, l'altra nipotina mostra quello che è un folletto, che è vestito veramente in modo bizzarro. Quindi, molto interessante. Proviamo a ingrandirlo. Questa foto, stranamente, non si vuole ingrandire. Non capisco perché. Vediamo se quest'altra si ingrandisce. Questa sì, ecco. Quindi, in questa, vediamo questo folletto che sembra quasi, sembra quasi, volere inginocchiarsi di fronte a questa bambina. Ed è vestito, nella parte di sotto, con una bizzarra calzamaglia. E qui vediamo anche il volto, che è veramente bizzarro, insomma. È un volto maschile, quindi è un folletto. Poi ha una sorta di cappello a punta, vediamo, e dietro c'è una specie di accenno, di ali, di quelle che sembrano delle ali. Andiamo avanti. Qui, invece, l'altra nipotina, perché si tratta di tre nipotine, di Conan Doyle, sembra giocare con una fatina che si appende a una foglia e sta davanti a un ramo. Ma ce n'abbiamo anche un'altra, dove una fatina sembra comparirgli poggiata su una foglia per offrirgli un dono, questo cofanetto che ha in mano. Ma vi ripeto, almeno in questo caso, si tratta di figure che potrebbero essere benissimo, dei ritagli, delle cose, dei disegni ritagliati, insomma. Quindi, bidimensionali. Qui, addirittura, in questa fotografia, vediamo dove avrebbero ripreso queste figure. Loro le avrebbero disegnate ricalcandole da delle figure già esistenti, aggiungendovi le ali e altre cose che le caratterizzano come fate. Ma, inizialmente, vediamo la corrispondenza. Qui, addirittura, c'è uno sbaglio nel ricalco. Perché la bambina che ha ricalcato questa figura sembra non aver zeccato il volto e averlo disegnato due volte, però è essersi anche dimenticata di cancellarlo. Cioè, prima ha disegnato la parte questa qui di profilo, e poi però ci ha ripensato. Però, in realtà, io ho guardato meglio, vorrebbe essere la ciocca dei capelli, invece. E non uno sbaglio. Comunque, è chiara la somiglianza, quindi sempre di disegno si tratta. Quindi, in questo caso, è chiaro che queste fatine sono dei ritagli di carta. Ma, poi, spunta una foto veramente, veramente strana. Io non so se queste due bambine, che per fotografare queste figure di carta utilizzarono una macchina fotografica a lastre, conoscevano il fenomeno della doppia esposizione. Se lo conoscevano, allora, ciò ha reso possibile fare queste fatine in trasparenza, perché di questo si tratta. Sono fatine che sembrano essere in trasparenza, soprattutto queste due figure qui. a meno che, invece, non si tratta di... cioè, sembra in trasparenza semplicemente perché sono state messe nell'erba e ci sono dei fili d'erba che passano davanti. Però è strano, perché qua si vedono i fili d'erba dietro la veste. è molto strana questa foto. Questa, ve li devo dire, questa trasparenza qui mi ha quasi fatto pensare all'autenticità di questa apparizione. Oltretutto, queste fatine sono veramente, come posso dire, diverse da quelle che abbiamo visto prima. Sembrano proprio, non riprese da nessun disegno, perché questa sembra addirittura appoggiarsi. Sembrano coerenti con la scena, perché questa sembra addirittura appoggiarsi a un filo d'erba. Queste sembrano apparire, questi due volti, non so se li vedete, addirittura apparire, come appunto un'apparizione. E questo conformerebbe la tesi secondo i quali queste fate si materializzerebbero dall'invisibile, quindi dall'altra dimensione. Per ora la lasciamo soltanto un'ipotesi. Quindi non sappiamo se questa foto sia una doppia esposizione fotografica, ossia autentica. Comunque, Elsa, intervistata più volte, diciamo che in giovinezza ha negato l'autenticità dell'incontro con le fate, ma poi quando è diventata più grande, verso l'anzianità, invece ha detto che era tutto vero. Quindi ha ritrattato nuovamente dicendo che lei con le sue altre sorelle ha incontrato veramente le fate, insomma. Ora qua vediamo una foto più definita. Vi faccio vedere. di quella che è ecco, anche questa è più definita di quell'altra, questa fatina che offre il cofanetto. E qua invece abbiamo un'altra storia ancora. Allora, aspettate che ve la racconto. Allora, qui si tratta di due altre presunte prove dell'esistenza di questi folletti. Allora, qui abbiamo uno scheletro e adesso vi racconto questo scheletro che è poco più grande della monetina che quindi dovrebbe appartenere a un ognomo a un folletto, volevo dire. Per cui ho scaricato anche la storia. Si tratta del ritrovamento fatto da una persona che vuole rimanere anonima come scritto qui della Corolina del Nord che dice di aver trovato uno scheletro di un folletto. e questo secondo alcuni sarebbe la dimostrazione la prova provata che i folletti esistono. Dice quest'articolo che test scientifici hanno concluso che le ossa sono effettivamente reali. Non me lo ammento io. Lo scheletro del folletto è stato scoperto in un nido di falco perché questa persona lavorava appunto nei boschi con l'intento di proteggere questa specie. Ve lo racconto meglio leggendovi queste pagine. Allora la serie di immagini che qui ci stiamo mostrando appunto sono quelle di uno scheletro umano parziale perché manca il bacino e gli arti inferiori parziali in miniatura. Il cranio la colonna vertebrale e le costole sono presenti anche se mancano appunto gli arti la mascella inferiore e il bacino. Nelle immagini è presente anche un pezzo da 5 pens cioè questo qui dietro per dare un'indicazione della scala di quanto è grande cioè questo scheletro. Se questi reperti sono autentici allora si tratta dei più piccoli resti umanoidi mai scoperti. Ma come sono apparsi in un nido di falchi? L'uomo misterioso che ha voluto rimanere anonimo ha inviato le immagini a un giornale dicendo che lavora presso un centro di salvataggio di rapaci in cornovaglia. Oltre a prendersi cura degli uccelli malati e ferite parte del compito di questo gentiluomo è monitorare i nidi o le specie protette per il numero di riproduzioni annuali e impedire che le uova vengano rubate dai collezionisti. Durante un controllo di routine si è ampicoso un alto albero per ispezionare il nido quando qualcosa tra i nemuscelli e le piume attirò la sua attenzione. Le ossa sono state raccolte e poste in una piccola sacca per campioni e riportate al centro di soccorso per un esame più attento. Il folclore della cornovaglia del resto è pieno di storie di folletti che si dice vivano nelle zone di alta brughiera. Essendo cresciuto nella zona di Dartmoor l'uomo poteva solo presumere che ciò che voleva erano stati ritrovati che ciò che aveva trovato erano i resti effettivi di un folletto chiamati Pixie. Il conduttore dello... No, niente. Quindi si pensa che non sia una bufala questa storia ma che sia tutto autentico soprattutto perché l'autore è voluto rimanere anonimo. Sentite quest'altra storia di quest'altro ritrovamento che però non riesco a ritrovare le foto di quest'altro ritrovamento un momento. Ah, eccole, sì, sono queste. Questo invece pare che sia un falso cioè la mummia di un folletto. Notate che le ali sembrano delle foglie però abbiamo già detto prima che questi esseri hanno un perfetto mimetismo con la natura quindi magari le ali a forma di foglia servono appunto per mimetizzarsi. È interessante che però è veramente un riaperto che è finito dalla polizia perché almeno questo scontrino qui resi da polis evidence io sento che è vero però è un mio sentire non voglio dire che questo mio sentire corrisponda alla verità però adesso vi faccio vedere che comunque questa scala di questo righello non so se è in centimetri o in pollici ma comunque se fosse in centimetri sarebbero undici centimetri se fossero pollici sono undici pollici quindi quest'essere o è alto undici centimetri o è alto undici pollici comunque due misure veramente ridotte per essere un umanoide allora come è successo è successo nel Derbyshire questi resti sono scoperti da un uomo del posto che desiderà anche esso rimanere anonimo mentre porta spasso il suo cane lungo l'antica strada romana situata tra i villaggi di Duffield e Belper appunto nel Derbyshire l'area è stata a lungo avvolta nel mistero con storie di spettri di strane luci danzanti e di altre cose strane stavo camminando lungo qua è lui che racconta stavo camminando lungo il vicolo in un punto che passa davanti a un vecchio tumulo detto Burial Mound questo tumulo risale all'età del ferro quando il mio cane cominciato a bagliare ad agire in modo piuttosto strano stava bagliando in direzione del tumulo e non si avvicinava minimamente ad esso il che era strano perché la passiamo ogni giorno ero curioso e mi sono avvicinando al tumulo per vedere cosa poteva averlo disturbato e poi ho notato qualcosa di strano sul lato del tumulo una fessura come se una sezione di terreno si fosse abbassato o aperta c'era appunto una fessura che misurava due piedi di lunghezza e un piede di larghezza e sembrava essersi formata di recente perché non l'avevo mai vista prima mi sono essere cava come una grotta poiché potevo sentire un fresco strascico contro la mia pelle cioè veniva come un'aria fresca da questa cavità ho usato la piccola torcia led sulle chiavi della mia auto che è presente sulle chiavi della mia auto per vedere se potevo vedere qualcosa nell'oscurità e sarà a questo punto che ho visto qualcosa che mi ha sorpreso esattamente due o tre piedi davanti a me ho potuto vedere una forma umana simile appunto a un corpo umano solo che era molto più piccolo di un corpo umano il mio istinto iniziale era quello di chiamare la polizia perché pensavo che potesse essere il corpo di un bambino piccolo ma guardando più da vicino ho potuto vedere che non era così era troppo piccolo e cosa più importante aveva quelle che sembravano essere le ali non vedendo toccarlo non non potendo toccarlo ho usato un bastoncino per trascinarlo fuori con cuore e lo raccolto in uno dei sacchetti di cacca di cane che ovviamente era vuoto chiama immediatamente sua moglie affermando di aver trovato qualcosa di incredibile e gli chiede di portare immediatamente la macchina fotografica quando arrivai per la prima volta senti il cane abbagliare da una certa distanza non avevo l'idea di cosa aspetta di cosa non l'ho messa proprio in ordine non avevo idea di cosa ecco di cosa fosse ah ecco non avevo idea di cosa non aspetta non avevo idea di cosa avessi trovato mentre mi avvicinavo al tumore potevo vedere il mio marito questa è la moglie che parla ha coerciato che guardava qualcosa sul pavimento che cosa hai trovato gli ha chiesto ha gridato vedi tu stesso ha detto ho guardato in basso e ho visto un corpo umano mummificato minuscolo ma perfetto con capelli pelle marrone scuro e cosa più inquinante le ali so che aspetto ha ha detto ma come può essere e non ce n'è solo uno ho dato un'altra occhiata all'interno di quel buco nel terreno e ce ne sono altri quindi non ce n'era solo uno c'era una vera e propria serie di sepolture di queste mummie di folletti o di fate se preferite il corpo è stato portato a casa in una scatola di biscotti e è tenuto in un garage durante la notte il giorno successivo la polizia locale infatti abbiamo visto che c'era scritto polis su quel biglietto la polizia è stata informata e i resti sono stati portati via per essere analizzati come esperto locale sul paranormale sono stato avvicinato dalla polizia per il mio consiglio anche se questo è stato tenuto piuttosto tranquillo per evitare il ridicolo e l'attenzione della stampa ecco già secondo me hanno insabbiato tutto sono stato portato sul posto dall'uomo che originalmente aveva scoperto questa straordinaria scoperta se qualcosa non vi torna è perché questo è tradotto dall'inglese a un esame per esempio il tumore sembra contenere più di 20 corpi fatati 20 corpi troppi dettagli per essere falsi a sta storia tutti in vari stati di mummificazione l'interno asciutto simile a una grotta ha conservato i resti a tal punto che alcuni corpi hanno anche minuscole unghie e sopracciglia sono tornato da allora per documentare il più possibile il ritrovamento in un'occasione particolare sono rimasto scioccato nello scoprire che era stato fatto qualche tentativo di richiudere il tumore ma da chi il sito sembra essere un luogo di sopportura per la gente per le fate insomma la posizione esatta del ritrovamento non è stata rivelata nessun ulteriore resto è stato rimosso dal tumulo non è stato dimostrato da quanto tempo i resti siano lì anche se lo stato di mummificazione sorgerebbe più di 400 anni secondo me questi qua l'hanno studiato e poi però ovviamente si sono tenuti tutti ben ben zitti perché per non cadere nel ridicolo per non avere conseguenze insomma questo è quello che emerge dalla lettura di questo articolo non che la storia sia falsa e poi alla fine dichiarano pure che invece l'hanno fatta loro quasi per annoverare il fatto che stavano scherzando che non hanno trovato niente insomma ma come abbiamo detto certo abbastanza inquietante no? tutti quei particolari quell'interesse cioè la realtà è che la campagna potrebbe essere disseminata di questi tumuli nascosti da secoli e rimasti sconosciuti quindi c'è tutta cioè per elaborare tutta questa cosa qua questa invenzione cioè sembri quasi un regista da fantascienza oppure veramente l'hai vissuta cioè come potrebbero esistere tali creature senza essere scoperte per così tanti anni dice eh i criptozoologi che hanno esaminato i resti quindi ci stanno implicare un sacco di persone come fa a essere falsa questa cosa i criptozoologi che hanno esaminato i resti sospettano che si siano evoluti per adattarsi così bene all'ambiente circostante da essere praticamente invisibili ad occhio nudo le loro ali e il pigmento quindi l'hanno studiati questi qua questi essiccolati non solo l'hanno trovati l'hanno pure studiati questo dice questo articolo il loro ali è il pigmento della pelle li mimetizzavano estremamente bene e molto probabilmente vivevano sulle cime degli alberi e raramente si avventuravano fino al livello del suolo in inverno probabilmente si ritirerebbero sottoterra in reti di grotte se esistano ancora è un'altra questione ma i resti ritrovati nel Derbyshire hanno messo a tacere migliaia di anni di folklore addirittura mamma mia una settimana dopo sovraffatto dalla copertura della stampa e da migliaia di email ho rilasciato la seguente dichiarazione rivelando la fata mommificata come una bufala hai capito siccome questo ha iniziato a essere bombardato di email mamma mia cioè ha dichiarato che era tutto falso ma no perché era falso grazie per l'interesse che avete dimostrato per la mia storia anche se credi nelle fate come faccio personalmente ci sarà sempre stato un elemento di dubbio nella tua mente che suggerirebbe che i resti siano una bufala tuttavia la magia creata dalla possibilità che la fata sia reale è qualcosa che ricorderai per il resto della tua vita hai capito lancia un'ambiguità come fa sì ho detto che è falsa però non è non essere troppo sicura insomma che è falsa capito come di vabbè te la voglio lasciare come cosa ambigua ahimè la fata è falsa dice lui ma quale è falsa hai detto troppi dettagli bell'amico mio ormai ormai hai parlato ma il mio interesse e la mia convinzione mi hanno permesso di creare un'opera voi che ne pensate lui dice che ha creato un'opera così perfetta da creare un'opera d'arte convincente e magica mi interessava anche vedere se il folklore delle fate è ancora una credenza valida in una società moderna e mi fa piacere dire che si lo è ho avuto più risposta da parte dei credenti di quanto avessi mai pensato possibile oltre che artista sono anche un mago e tu sei stato il fantastico pubblico quella scintilla di magia ha acceso la tua immaginazione e ha reso la tua giornata più memorabile e emozionante hai capito cosa dichiara questo quindi questa no quello scheletro questa qui aspetta che adesso vi faccio vedere secondo lui è una sua opera d'arte aspetta aspetta ecco no questo è un altro che non non c'entra niente è quello del prima lui ha trovato questo questo qui ha trovato e quindi no poi me deve dire come ha fatto a fare i pezzettini come c'è questi qua questi ramoscelli non so se siano ramoscelli questi qua capito sembra veramente una cosa che si sta disgregando come ha fatto una cosa che si sta disgregando così naturalmente cioè mi vengono tanti dubbi a me poi veramente guardate le dita cioè a voi sembra un artefatto questa cosa una cosa finta sembra a me no a me c'ha pure i capelli guardate c'ha pure i capelli c'ha i capelli aspetta faccio vedere guardate qua come si vedono i capelli guarda guarda non sembrano incollati guarda poi si vede il viso si vede il muso si vede cioè poi poi lui si guarda bene di toccarlo con le mani nude c'ha i guanti vedete che c'ha i guanti cioè tu non tratti un'opera d'arte con i guanti che tanto l'hai fatta tu lo sai che non si rovina tu se la tratti con i guanti c'hai paura di rovinarla la mummia capito perché il grasso rovina la mummificazione quindi c'è sta pure questo ma chi vuoi fregare bello ma chi vuoi fregare questa è vera questa è una cosa vera addirittura c'è sta epidermide anche sulle foglie su quelle che lui dice verso ali che sembrano foglie ma c'è sta questo è un tessuto è un tessuto epidermico questo qua mummificato anche esso ma che me vuoi dire e poi il fatto che sembrano foglie queste ali fa parte del mimetismo questo succede in natura succede questo questo essere tra gli insetti e l'uomo cioè è una cosa incredibile c'è lo scheletro umano e le ali di insetto poi non so come possa volare una cosa del genere però con quattro ali ne ho contate quattro mi sembra ecco no sono cinque no aspetta sono una due tre quattro cinque sette otto ali c'ha c'ha otto ali questo otto ali che vai a capire come funziona ma comunque poi potrebbe essere leggerissimo come come lo scheletro degli uccelli magari è forato è leggerissimo lui perciò le ali riuscivano a farlo volare che vedevo di è veramente strano guardate come lo prende coi guanti lui e comunque ha i capelli vedete che c'ha i capelli è incredibile questa questa mummia è proprio incredibile ecco qua si vede poi police evidence come ha fatto ad avere questa cosa ecco qua è il retro è il retro qua si vede l'attaccamento delle ali delle ali che ha le scapole alle scapole attaccate sono attaccate che strano che strano che strano essere certo questo sembra un artefatto questo dell'attaccamento delle ali però sembra cucito sembra cucito questa cosa non vorrei che questi esseri si cucciano addosso queste ali magari quindi non sono ali vere sono cose per mimetizzarsi non sono ali queste sono sono foglie per mimetizzarsi magari magari l'essere è vero e si cusce sulle spalle queste non lo so non so che dirvi non so che dirvi se no ha ragione lui è un è un artefatto però la mummia sembra vera addirittura qua si vede la spina dorsale qua si vedono le costole strano vabbè tutto molto strano io ho concluso e vi saluto tutto Grazie.